E ora ci spostiamo a Pescara per una notizia che possiamo anche leggere sul nostro sito www.reteotto.it Ha riportato ustioni gravi, infatti un detenuto rinchiuso nella casa circondariale di San Donato a Pescara. L'uomo si sarebbe dato fuoco in segno di protesta. A denunciarlo è il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, il SAPPE. Si tratterebbe di un detenuto nel nord Africa che ieri è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bari. Sembrerebbe che alla base del gesto del detenuto, 40 anni e di origini marocchine, con una pena definitiva da scontare e ammesso al lavoro all'esterno, vi sia stata la contestazione per un rapporto disciplinare avuto qualche giorno prima. Si legge in una nota a firma di Donato Capece, segretario generale del SAPPE. Il quarantenne avrebbe chiesto più volte di parlare con il comandante e mentre si recava nel reparto semiliberi si è dato fuoco. Tempestivamente è stato allertato il 118 con i soccorritori che hanno trasportato l'uomo prima all'ospedale di Pescara, dove le sue condizioni sono apparse però subito gravi. Per questo è stato trasportato con l'elicottero presso l'ospedale di Bari, dove è stato disposto il ricovero nella struttura Grandi Ostionati. Sono stati momenti di grande tensione, evidenzia Capece, sottolineando ancora una volta la carenza del personale e la necessità di intervenire sulla casa circondariale, rendendola più confortevole e funzionale. Questo è in sintesi il contenuto dell'articolo che potete leggere sul nostro sito.